Un mega saluto a tutti cari amici, ben ritornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete alle mie spalle ho lasciato la finestra aperta oggi perché abbiamo una splendida giornata di sole e qui a Londra sono piuttosto rare, quindi probabilmente vedrete cambiare la luce nel corso del video. Ma proprio perché c'è questa bella giornata di sole che oggi abbiamo deciso di andare a fare un salto al parco sotto casa per effettuare qualche fotografia, andare a rispolverare qualche vecchia macchina fotografica che abbiamo lasciato nel cassetto. In fine conti dai, quanti di noi non vedono l'ora che arrivi la primavera e che arrivi l'estate per uscire con le proprie ultramoderne reflex o mirrorless digitali? Oppure magari ci sono anche un sacco di appassionati che non vedono l'ora di poter caricare una cartuccia di pellicole per fotografie istantanee da utilizzare con le proprie Polaroid oppure con le proprie Fuji Instax. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi oggi perché era da settembre del 2018, credo, che non parliamo delle Polaroid istantanee, di fotografie istantanee, quando abbiamo ristrutturato una vecchia Polaroid 600, la S635. Ve la ricordate? L'abbiamo ristrutturata insieme in video, nel caso ve la lascio qui in scheda oppure sicuramente ve la lascio tra i video suggeriti alla fine. Tra l'altro mi sono accorto che qui ci sono ancora due pellicole, ma quanto è bella questa vecchia Polaroid così tutta squadrata che ci ricorda tantissimo la nostra infanzia. Chissà quante fotografie avete ancora conservate che sono state scattate con queste Polaroid. E oggi vorremmo tornare ancora un pelino indietro perché ragazzi sul banchetto di un mercatino abbiamo trovato questa. Insomma un po' la state anche vedendo sullo schermo del PC, l'avete vista sicuramente nella copertina del video. Guardate un po' cosa siamo riusciti a trovare. Era sul banchetto di un'associazione di volontariato che la stava vendendo per beneficenza e siamo riusciti a portarcela a casa con una ventina di sterline. Oggi vorremmo andare ad effettuare una veloce, non voglio dire una veloce ristrutturazione o restauro perché effettivamente l'abbiamo trovata in buone condizioni ma sicuramente almeno una pulizia. Ecco qui stiamo parlando della Polaroid 1000 in questa versione e con il tasto verde al posto del tasto arancione con la quale si vedeva molto spesso. Guardate l'abbiamo trovata in ottime condizioni. E' una macchina nata nel 1977. Quindi insomma dai, ha più di 40 anni questa macchina fotografica ed è raro trovarla in queste condizioni. Restaurata così con il kit con borsa originale non vi nascondo che è difficile anche trovarla qui in UK sotto le 50 sterline. Però insomma fa comunque la sua bella figura. Come vedete non abbiamo il flash. Il flash era un accessorio, era a cartuccia. Ma guardate quant'è carino il design di questa macchina. Nel fine anni 70 diventò iconico questo design perché insomma voleva unire un po' la tecnologia di questa macchina a questo design pop futuristico. Questa macchina assomiglia, vedete, ad un parallelepibilo, a questa forma veramente particolare. E se consideriamo che nel poco più del palmo di una mano potevate portare con voi dieci cartucce a sviluppo istantaneo era davvero una grande cosa. Beh, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche non è che abbiamo tantissimo da dire. La focale è singola. Abbiamo una lente in plastica. L'obiettivo infatti è proprio un singolo elemento con una focale di 116 mm. L'otturatore a controllo elettronico ha dei tempi di scatto da un quarto di seconda a un duecentesimo di seconda. Naturalmente la messa a fuoco è fissa e come vi stavo dicendo abbiamo sopra un contatto per il montaggio, per l'innesto di un flash esterno che si va poi a sincronizzare con la macchina fotografica. Come avete visto proprio sotto il mirino abbiamo il regolatore, il selettore per l'esposizione manuale. Possiamo andare da più chiara a più scura in base alla luminosità ambientale. La macchinetta andrà invece a regolare automaticamente il tempo di scatto. La Polaroid 1000 ha un esposimetro di tipo CDS quindi ha il solfuro di cadmio. Insomma questa è tutta la tecnologia che possiamo trovare in questa macchina fotografica. Come vi dicevo noi l'abbiamo trovata in buone condizioni generali. Non ci sono grandissimi graffi, la lente non è graffiata, addirittura la gomma dell'oculare è molto morbida quindi non ci sarà bisogno di sostituirlo ma quasi sicuramente andremo a sostituire il frog tongue. Quindi quella pellicola nera elastica che va a proteggere nei primi istanti di fuoriuscire della foto proprio lo sviluppo. Vedete anche la decalcomania sia della dicitura 1000 sia dell'arcobaleno tipico di Polaroid sono in ottime condizioni. Andando ad aprire lo sportellino per il caricamento della cartuccia possiamo vedere, adesso poi vi farò dei filmati un po' più da vicino, che sia i rulli che il cassettino delle pellicole è in ottime condizioni. E parlando di pellicole, quali pellicole possiamo utilizzare con una macchina fotografica vintage di questo tipo? Beh questa macchina montava le pellicole compatibili per SX70. Sono ancora in produzione, le troviamo sia a bianco e nero che a colori ed ecco qui un pacchetto, sono riproposte da Polaroid Original. Il peccato è che non le troveremo a prezzi tanto accessibili. 8 pose le pagheremo intorno ai 20 euro. In origine le pose arrivavano a 10. Infatti quando caricheremo adesso le nostre pellicole, il selettore indicherà 10, quando in realtà avremo solamente 8 pose a disposizione. Questo significa che quando l'indicatore segnerà il numero 2, in realtà la nostra cartuccia sarà vuota. Il funzionamento della macchina fotografica era garantito dalle batterie che si trovavano proprio all'interno del frame, all'interno della scatolina, della cartuccia di pellicole. Quindi avevamo sempre delle nuove batterie a disposizione, ogni volta andavamo a caricare la cartuccia di pellicole all'interno della macchina. Io direi adesso di andarla un po' a pulire, quindi muniamoci del nostro panno in microfibra. Il Frog Tongue ce l'abbiamo qui, è nuovo. Qualora voleste restaurare anche voi, dare una rinfrescata, una pulita alle vostre Polaroid vintage, magari ne avete acquistate anche voi una nel mercatino, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto del Frog Tongue. Molto importante, questo io vi consiglio sempre di sostituirlo. È molto semplice, le istruzioni sono messe qui di lato, vi farò vedere che non ci vuole tantissimo tempo per la sostituzione ed è una cosa che consiglio. Questa pellicoletta è tra le più importanti perché va a proteggere, come vi dicevo, la fotografia appena scattata nei primi istanti di uscita. Per la pulizia utilizzeremo un semplicissimo panno in microfibra con un po' di acqua tiepida e un po' di sapone neutro. Con un bastoncino cotonato invece andremo a rifinire alcuni spazi stretti, spazi piccoli come possono essere i rulli dove vengono caricate ed espulse le fotografie. Quindi adesso passiamo al restauro. Con il panno in microfibra diamo una bella pulita in modo anche un po' così grossolano. Vedete tutta la macchinetta, tutti questi anni di polvere li andremo a portare via in questo modo. Come vi stavo anticipando la macchinetta è in ottime condizioni. Dopo aver dato una pulita generale ed aver tolto tutta la polvere e le macchie presenti andiamo a prendere il nostro bastoncino cotonato, ci mettiamo un goccino di alcol ed andiamo invece a pulire tutte le parti un po' più nascoste. Per esempio andiamo a pulire il mirino, l'oculare. Vedete? In questo modo qui. Anche perché qui ci avvicineremo la faccia e quindi è sempre meglio avere queste zone pulite. Come vi dicevo non è un vero e proprio restauro perché la macchina è in ottime condizioni. Io andrei anche a pulire sempre con il bastoncino cotonato la finestrella che conta le pellicole restanti. E colato asciutto andiamo ad asciugare. Ancora sempre con il bastoncino andrei a rifinire per bene il mirino. La manutenzione di queste macchine è davvero basilare. Nell'esposimetro proviamo a girarle in modo tale da verificare il corretto funzionamento. dopodiché apriamo il nostro sportellino per il caricamento delle cartucce ed andiamo a smontare l'alloggiamento del frog tongue, quello che si trova qui. Per smontarlo dobbiamo agire dall'interno sui fermi in plastica, così come abbiamo visto nel video precedente, fino alla completa rimozione. Il movimento da effettuare per smontare lo sportellino è molto semplice. Potete punirvi di un qualsiasi coltello oppure di un tagliacarte e agire sul primo dentino andandolo un po' a sollevare, vedete, in questo modo e anche sul secondo dentino, sempre sollevandolo verso l'esterno. Vedete che cosa succederà? Che lo sportellino verrà fuori, vedete? Ecco qui. A questo punto possiamo tirare lo sportellino da questo lato, ma vorrei evitare di danneggiarlo, quindi vado anche ad alzare e rimuovere il secondo dentino. Ecco qui. Ed anche il terzo che è quello centrale. Una volta rimossi tutti i dentini, sempre con il coltello, possiamo fare una leggera pressione e andare a sganciare il nostro sportellino che contiene il frog tongue. Adesso possiamo andare a pulire molto meglio anche il carrello e vedete che il frog tongue è poggiato sullo sportellino. Vedete? Con questi dentini non dovete fare altro che rimuovere questo vecchio frog tongue ed andare a montare quello nuovo che è molto più elastico. Questo qui, insomma, avrà sicuramente i suoi 40 anni e lo andiamo a sostituire. Per quanto riguarda la pulizia del carrello, una volta smontato, possiamo sempre utilizzare il nostro panno in microfibra imbevuto di una soluzione di acqua e sapone neutro. In questo modo andiamo a pulire tutto l'esterno. Mentre per l'interno, come abbiamo visto prima, dobbiamo utilizzare il bastoncino cotonato. Questo ci aiuterà a passare anche in mezzo ai rulli. In questo modo andiamo a inumidire tutti i rulli, andiamo a rimuovere la polvere. E questa macchina non è utilizzata veramente da tantissimi, tantissimi anni. E un granellino di polvere un po' più grande potrebbe andare a far cosa? Andare a graffiare la pellicola della fotografia che abbiamo appena scattato. Quindi sarebbe sempre meglio andare a rimuovere la polvere. Possiamo verificare il movimento degli ingranaggi. Vedete? Muove correttamente. L'importante è stare attenti a non lasciare dei pelucchi. Quindi quando vedete che il bastoncino cotonato si sta iniziando a sfilacciare, ecco, magari è meglio sostituirlo. Guardate intanto lo sporco, non so se si riesce a vedere. Vedete che si era depositato sui rulli. Adesso dall'altro lato, il bastoncino che avevamo lasciato asciutto, ci facciamo un altro passaggio sui rulli. Ragazzi questa è un'operazione da fare solamente in fase di acquisto e eventualmente come pulizia straordinaria. Vedete questa è la pulizia da fare sui rulli. La maggior parte delle volte alcune fotografie non riescono in maniera perfetta esclusivamente per un problema di sporcizia sui rulli. La parte interna, vedete anche questo si è sporcato, vedete? Cioè veramente tanta polvere e tanta sporcizia depositata. Comunque dobbiamo dire che questa macchina è in eccellenti condizioni. La parte interna la andiamo un po' a pulire in questo modo con il panno in microfibra. Ok ragazzi, una volta terminata la pulizia anche dei rulli interni della macchina andiamo a sostituire il nostro frog tongue e poi vi direi di provare anche a montare le cartucce in modo tale da verificare il corretto funzionamento della macchina. E quindi andiamo a prendere il nostro nuovo frog tongue dalla sua confezione. Il costo è un po' altino, se non sbaglio questo nuovo frog tongue l'ho pagato intorno a 5, non ricordo se 5 o 7 euro. Però considerate che lo sostituite una volta, dopodiché non ci pensate più. Cerchiamo anche di toccarlo con le mani il meno possibile. Rimuoviamo il vecchio cercando chiaramente di mantenere lo stesso verso. Vedete le dimensioni sono identiche, i frog tongue sono compatibili, vedete? Lo dobbiamo andare a posizionare, eccolo qui, diciamo in questo modo, nello stesso verso. Vedete? Questo è il verso da utilizzare. Quindi via il vecchio e posizioniamo il nuovo. Una volta andato ad incastrare nei dentini, eccolo qui, andiamo a rimontare il nostro sportellino. Vedete? Posizionato perfettamente all'interno. Adesso direi di andare a verificare il funzionamento. Anzi, vediamo prima in che condizioni era il vecchio frog tongue, perché secondo me comunque un po' di elasticità era rimasta. Però potete vedere, per esempio, che questo angolo, vedete perché lo abbiamo sostituito, questo angolo era tagliato. Vedete? Andiamo a stendere qui sulla superficie bianca. Vedete? Vediamo se riesco a inquadrare. Vedete? Vedete questo angolo era tagliato. Quindi questo frog tongue è inutilizzabile. Adesso prendiamo le nostre nuove cartucce SX-70 di Polaroid Original e andiamo a verificare il funzionamento di questa Polaroid 1000 del 1977. All'interno quindi dovrebbero esserci le batterie. Infatti questa cartuccia è un po' più pesante rispetto alle nuove iType che invece non hanno la batteria in quanto la batteria è già inserita all'interno della macchina fotografica. Ecco qui l'inserimento molto semplice. Andiamo a aprire lo sportellino cartuccia con la pellicola protettiva questa qui il cartoncino che si spelerà automaticamente. Una volta sentito il clac chiudiamo la nostra macchina ha espulso perfettamente il cartoncino di protezione. Il frog tongue come avete visto è molto elastico ha lavorato benissimo ed andiamo a vedere anche se riesco ad inquadrare la finestrella delle pose dovrebbe indicare 10 quando in realtà come vi dicevo avremo solamente 8 pose a disposizione. Adesso la nostra Polaroid Land Camera 1000 degli anni 70 è pronta a tornare in vita e a riscattare nuove fotografie. Andiamo a sfruttare questa bella giornata. Adesso andiamo alla ricerca di qualche soggetto da fotografare ma ragazzi mi raccomando portate con voi sempre uno zaino oppure una borsa perché una volta scattata la vostra fotografia e avrete la vostra pellicola in mano dovete andarla subito a mettere al buio in uno zaino o in una borsa e ricordate che i tempi di posa per lo sviluppo sono abbastanza lunghi queste nuove pellicole della Polaroid original infatti ci mettono all'incirca 30 minuti. Un'altra cosa che dovete ricordare è che un luogo comune nel passato era quella di sventolare di scuotere le fotografie per farle asciugare prima. Beh ragazzi niente di più sbagliato perché queste pellicole contengono tre piccoli serbatoi di liquidi di reagenti che servono per lo sviluppo della foto e andando a scuotere la foto non farete altro che spostare questi liquidi a destra e a sinistra sulla pellicola e in questo modo non si cospargeranno più uniformemente e andrebbero a rovinare lo sviluppo. Siamo appena rientrati nel nostro esperimento e cinque sono le fotografie che abbiamo scattato con questa Polaroid 1000. Ragazzi sono contento di potervi dire che la macchina funziona. Ecco le fotografie che abbiamo scattato e guardate voglio mostrarvele perché guardate la vignettatura unica veramente unica della Polaroid 1000 di queste pellicole SX70. Guardate anche la saturazione dei colori sembrano fotografie invecchiate eppure le abbiamo stampate oggi pomeriggio. Queste pellicole questa macchina fotografica potrebbe regalarvi dei ricordi indimenticabili. Certo a che prezzo abbiamo visto che un pacchettino da otto pose costa dai 20 ai 22 euro un po' tanto sicuramente ma certo non è una macchina da usare tutti i giorni e da usare solamente nelle occasioni speciali. Visto che ho lo scatolino in mano ragazzi vorrei ricordarvi di controllare sempre la data di produzione delle pellicole perché queste pellicole hanno una scadenza la troverete qui di lato. Conservatele sempre sotto i 20 gradi per una conservazione ottimale delle pellicole quindi anche in frigorifero va benissimo. E quindi cosa dire ragazzi io spero soprattutto se siete appassionati di fotografia vintage con Polaroid che questo video possa esservi piaciuto in tal caso mi raccomando un like regalato mi farebbe davvero tanto piacere questa è la prima macchina che proviamo con le pellicole SX70. Sta arrivando una nuova macchina fotografica di Polaroid che proveremo e recensiremo a breve e quindi se siete solo di passaggio iscrivetevi al canale ed attivate la notificazione della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Con questo vi rimando alla prossima puntata al prossimo appuntamento un mega abbraccio dal vostro Fairwest.